Salve, salve da Marco Calabro, per conto di Amacicasa Italia. Ci troviamo oggi a Milano, siamo nello stand della Magniflex e stiamo vedendo un prodotto specifico. Il prodotto si chiama Magnistretch, è un prodotto con delle caratteristiche specifiche ed è un prodotto che è stato studiato e realizzato in collaborazione con l'Università Spagnola di Saragossa. Il prodotto è un prodotto in schiuma che ha una caratteristica sostanziale. Purtroppo noi soffriamo spesso di attrito fra le vertebre. Che cosa significa? Noi abbiamo uno spazio cartilaginio fra una vertebra e l'altra che consente la divisione. Quando questo spazio cartilaginio si va a consumare, quello che avviene è che i nervi cominciano, perché va a fuoriuscire un liquido, i nervi cominciano a produrre dei dolori caratteristici della schiena. Che cosa fa questo materasso? Il concetto sostanzialmente che fa è che nella fase del sonno, che sviluppa e che nella fase del sonno vengono ampliate nuovamente, dilatate nuovamente le vertebre, in modo da alleviare questo dolore caratteristico della spina gorsale. È un principio tecnico praticamente utilissimo perché ci consente nella fase del sonno di riuscire a, nella fase del sonno, di riuscire ad alleviare quello che è il peso, che è la forza di gravità nell'arco del giorno ci produce. Quindi praticamente con un principio molto semplice, nella notte durante il sonno si va ad alleviare quello che è il peso corporeo che purtroppo nel giorno va a creare questo attrito fra le vertebre. Quindi un principio semplice, funzionale, ma che ci permette ogni notte di curarci del peso dato sulla spina dorsale il giorno. Questo praticamente è il modello Maxi Stretch che è stato realizzato dalla Magniflex in Italia grazie anche alla collaborazione dell'Università Spagnola di Saragossa. Grazie sempre per ascoltare i video di Amaci Casa Italia e arrivederci al prossimo giorno. Grazie. Grazie. Grazie.